buongiorno e buon inizio di settimana oggi 7 marzo 2022 lunedì buon inizio di settimana buon lavoro dio benedica la tua vita e l'intera tua famiglia come ogni giorno ben ritrovati a questo appuntamento con il calendario cristiano il buon seme vogliamo ascoltare questa questo messaggio che la parola di dio vuole darci e poi ascoltare anche questa meditazione che sicuramente benedirà la nostra vita amen dio ci benedichi insieme dice così la scrittura di oggi chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia e chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia testo che puoi trovare nel vangelo di matteo capitolo 7 versetti dal 24 al 26 il titolo di questa meditazione biblica è questa la radice del male io faccio quello che voglio si sente dire spesso tuttavia secondo la bibbia questa voglia di fare ciò che pare e ciò che piace è caratterizzata di chi vuole vivere senza tener conto di dio l'indifferenza verso dio e la sua volontà è il motivo di fondo della ribellione contro di lui è la vera radice del male i nostri progenitori ad amedeva hanno forse ucciso qualcuno hanno forse rubato qualcuno no semplicemente hanno disubbidito per un certo tempo si sono sottomessi all'autorità di dio poi disubbidito hanno agito secondo la loro volontà personale e poi come è finita si sono trovate separati da dio la bibbia insegna che negli ultimi tempi il male aumenterà seconda timotio capitolo 3 e già oggi lo constatiamo gli uomini hanno sempre meno scrupoli a sottrarsi ad ogni autorità divina o umana che sia e questa tendenza si diffonde sempre più nella nostra società la vediamo nei genitori e la vediamo nei figli la vediamo nei superiori e la vediamo nei sottoposti tutti ne siamo contagiati dobbiamo assolutamente ritornare a dio il nostro creatore ci rendiamo conto che non possiamo vivere come ci sembra meglio con un tale comportamento ci troveremo solamente lontani da dio per sempre nei tormenti e senza la pace quindi riflettiamo seriamente su questo aspetto oggi dobbiamo anzitutto andare a gesù cristo confessando gli nostri peccati per ricevere il perdono di dio e la vita eterna e poi dobbiamo ubbidirli in risposta al suo amore poi dobbiamo vivere la nuova vita che egli stesso ci dona riconoscendo che lui è anche il nostro migliore amico e il nostro migliore maestro nella quale possiamo confidare ogni giorno confiderò sempre nel mio signor nei lieti di nell'ombra del dolor perché è fedel amico e il nostro migliore maestro perché è fedel amico e gli è e mi sostiene e veglia su di me nel mio signor che meraviglioso questo canto ed è una bellissima verità egli è fedel egli è un amico e vuole che noi confidiamo in lui con fiducia verso di dio il signore ti benedica e che dio possa aiutarti anche in questa giornata in questa settimana che la pace di cristo regni nella tua vita e nella tua casa pace del signor regni nella tua vita� grazie a tutti grazie a tutti